Quanti anni di galera ha fatto? 21 Per quale motivo? Faccio Vari motivi Vari reati Vari reati, rapine Quanti soldi ha speso nella sua vita per consumare sostanze superfacenti? Parliamo di cocaina e eroina Milioni di euro Il suo gruppo era un gruppo famoso in Abruzzo e in Italia Sì Avete fatto diverse rapine Sì Adesso com'è la droga a Teramo? La merda I ragazzi consumano tanta cocaina, tanta eroina ma soprattutto? Usano ambetamina e che non è droga Medicinali? Sì Antidepressivi? Sì L'età si è molto abbassata vero? Sì, si parte da 14 anni in voi Come si consuma? Dove si acquista la droga? In locale Nella costa, a Teramo, nei bar Ci sono tanti gallupini che portano la droga? Sì, sì, sì Italiani, albanesi, rumeni I ragazzi di colore spacciano? Sì Non sono i primi Sì Hai qualcosa da dire ai ragazzi che consumano la droga in questo momento a Teramo? Che non serve a nulla Non serve a nulla perché sono medicinale Quanto secondo lei si è rovinato adesso il consumo di droga nel capoluogo, sulla costa e in Abruzzo? Lei ha tanti amici che spacciano? Sì Raga, voglio dire che è una merda Non serve a nulla Lei come sta adesso di salute? Adesso sto benissimo Sono vari anni che non faccio uso Sto molto bene È stata dura uscire fuori? Oddio, ci vuole la buona volta È stata dura Però se non ci metti il tuo Non ce lo farei mai Lei non ha figli Questo lo sappiamo Sì Ha avuto due mogli Non ha figli Sì Se avesse dei figli che messaggio gli lascerebbe? Che non fare l'errore che ho fatto io